Un pregiudicato barese di 32 anni, Giuseppe Davide Padolecchia, già detenuto in regime di arresti domiciliari, è stato condotto nel carcere di Bari dopo un blitz nella sua abitazione di Bari Vecchia da parte della Polizia di Stato. Il soggetto, infatti, nonostante la misura cautelare che gli era stata imposta, avrebbe continuato a portare avanti la sua attività di spaccio di droga. Durante il controllo nell'appartamento, le unità cinofile hanno scoperto circa 600 grammi di marijuana e 44 dosi di cocaina pronte alla vendita, nascoste in parte sotto il letto e tra i barattoli di un pensile della cucina. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e una modesta somma di denaro. L'uomo è adesso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo è adesso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.